Hello, 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 every, everyone, hi guys, welcome or welcome back to my channel finalmente con un nuovo video insieme, prima di andare a parlare, of course, di tutto, sigla e rieccomi qui subito dopo la sigla e wow guys veramente, thank you so much for everything, thank you so much for every single like, every single comment, every single view for all guys veramente, mi riempite davvero fuori di gioia, veramente mi sostenete, mi date affetto, mi date amore, veramente grazie, grazie mille perché è bellissimo e è straordinario il fatto che ogni volta che mi metto davanti alla telecamera come primissima cosa non riesco a non ringraziarvi perché il vostro sostegno è davvero tanto e forte thank you so much again, vi ricordo anche la barra qui sotto ovviamente per andare a iscrivervi al mio canale andare a accedere alla campanellina per aver notato più flash about my new video e solamente se è una bionda, non dimenticate di andare a iscrivervi anche sui miei social Instagram e Twitter ok? ok in questo video, come ovviamente avete già capito dalla thumbnail e ovviamente dal titolo parleremo di Milk Makeup Milk Makeup è un brand americano che ovviamente c'è con anche spedizione su Sephora US io ho acquistato tutti i prodotti ovviamente che vi lascerò nell'info box e qua vicino a me step by step che andrò a provare da Cult Beauty che è un website inglese che spedisce everywhere anche comunque in Italia quindi è facilmente acquistabile e in più la grande novità ovviamente di Milk Makeup è che sta arrivando in Italia ovviamente non c'è tutto, non ci sono ovviamente le full size, anche comunque di skin care non c'è tantissimo ma comunque già che sta arrivando piano piano ci sarà anche tutto l'assortimento su Sephora Italy quindi veramente non vedevo l'ora anche di acquistarlo anche perché una cosa che metto su Smart Milk Makeup è che tutta la skin care ovviamente che hanno sono in stick, quindi sono in roll e penso che comunque non ho mai fatto una cosa così strana, così diversa ho detto vabbè proviamo come primo prodotto guys io vi vado a presentare subito il Matcha Cleanser che è il cleanser ovviamente di skin care c'è solamente un type of cleanser, un type of toner quindi c'è tipo un tipo per ed è stato anche molto più easy e facile acquistarlo e questo è il cleanser di Milk Makeup è in stick e la cosa che mi ha intesiasmato tanto anche di questo brand per poi ovviamente andare ad acquistarlo è il fatto che non contiene assolutamente parabeno all'interno non è assolutamente testato sugli animali e sono vegan quindi in senso ovviamente sapete che per quello che io cerco dal brand e dagli ingredienti è il più naturale possibile il fatto che comunque non sono assolutamente testato sugli animali sono naturali, sono vegan e non contengono assolutamente parabeni mi ha veramente intesionato molto di più ad andare ad acquistarli la cosa bella è che comunque sono anche in stick quindi è più anche una sorta di gioco anche questa skin care routine anche perché mi metterò davvero la prova ad andare a incollarmi per bene il viso anche perché comunque non ho mai trovato un prodotto in stick skin care prima d'ora e all'interno ovviamente di questo cleanser c'è fiori di camellia ed estratto di alghe io direi di andare immediatamente ovviamente a provarlo perché sono ultra incuriosito ok ed è la primissima volta che io ovviamente voilà il saldo a freschezza che mi piace anche questa cosa e ok o magari lo tiro un po' più su ok vabbè il prodotto si presenta così e la cosa bella è che io credevo di andare ad umidire il viso prima ovviamente di andare ad applicare il prodotto invece è umido cioè quindi il prodotto si si presenta già umido in modo che comunque non faccia difficoltà ovviamente ad andare ad applicarlo sul viso la cosa di cui sono felice è anche del nuovo taglio di capelli perché è molto più easy anche da tenere in piedi e ovviamente da andare anche senza ovviamente poi rovinare la pettinatura e passare i cleanser e ovviamente tutto il resto della skin care anche sulla fronte però è molto è molto umido il prodotto e mi piace perché è anche un pochino granuloso non so se riuscite a vederlo ma quando andate ovviamente a passarlo sul viso lascia questi micro o proprio micro micro granulini che a tocco li si sentono solamente facendo così perché se vai comunque a massaggiare il viso non si sentono tanto però andando a fare così ovviamente si sentono ma poi andando a passare questo direttamente si sente che va a lasciare proprio di micro granuli ed è interessante nel senso mi mi sta piacendo anche perché comunque è una cosa nuova nel senso non l'avevo mai provato prima è ovviamente in stick come skin care mi stancho si smango un po' io direi di andare a sciacquare il viso e torno a viso pulito eccomi qui a viso risciacquato prime impressioni del cleanser mi sono piaciute già dal primo passaggio andando a passare lo stick senza senza contatto con l'acqua senza umidificare comunque il viso mi è piaciuto anche perché lo stick l'ho trovato comunque la parte sopra ultra umida e facile comunque anche di andare a stenderlo comunque non l'ho trovato assolutamente secco o non ho assolutamente avuto difficoltà ad andare a stendere ovviamente il cleanser secondo passaggio mi è piaciuto quando sono andato a modificarlo ovviamente con l'acqua il cleanser che è andato a a creare una sottosorta una sottospecie di schiumetta cremosa ed è andato ovviamente a pulire idratare e rimprescare tantissimo il viso anche perché poi ha queste ultra micro particelle sfoglianti che mi sono piaciute anche perché comunque al contatto con l'acqua vanno proprio delicatamente proprio in un modo ultra morbido a sfogliare bene il viso e a rimprescarlo quindi proprio prima l'impatto del cleanser mi è piaciuto anche perché era la prima volta che provavo un cleanser in stick e devo dire che continuerò ad usarlo questo sarà uno di quei cleanser che sono anche ultra comodi ce l'ho trovato un po' più ultra comodi ultra fast e anche il cleanser comunque si è andato subito a risciacquare senza troppi problemi con l'acqua quindi prime pressioni direi top come secondo passaggio fortunatamente trovando l'esfogliante all'interno del cleanser passo subito alla maschera di maschere di milk makeup ne ho volute acquistare due e sono queste qua una è a base di watermelon e l'altra credo che sia anche la più famosa delle maschere di milk makeup è a base di cannabis ovviamente guys andrò a provare questa anche perché sono ultra ultra furioso e ovviamente lo stick si presenta così tipo ultra ultra fai come piace ha sempre il suo salva salva coso e mi piace anche della maschera il fatto che sono sempre cruelty free vegan paraben free quindi nel senso tutta proprio la gamma credo che anche il milk makeup sia costituita così proprio sono ultra naturali e andiamo a provare la maschera ok guys anche questo prodotto come il cleanser l'ho trovato ultra morbido e la base è umida quindi la cosa è ultra maneggevole anche di questi di questi prodotti di questi stick è che comunque la parte superficiale ovviamente del prodotto è umida quindi senza andare a umidificarla subito con l'acqua o dandole comunque un piccolo aiuto iniziale si vanno a stendere magnificamente infatti la maschera mi piace l'odore non ha proprio un odore particolare cioè sembra molto più erba tagliata non ha proprio un odore specifico specifico non è forte come altri prodotti a base ovviamente di questo ingrediente però ovviamente si presenta così e vabbè insomma nel senso lasceremo agire per quei 20-25 minuti tornerò prima di andare a risciacquare il viso per farvi andare a vedere come comunque si è andata ad asciugare e amalgamare bene la maschera ci vediamo dopo prima di andare a risciacquare il viso la maschera si è asciutta si è proprio amalgamata bene infatti guys top mi piace perché si è proprio andata ad asciugarsi bene vado a rimuoverla e ci vediamo subito e rialcomi qui subito dopo aver risciacquato la maschera guys top anche questa maschera mi è piaciuta tanto mi è piaciuto proprio l'effetto finale mi è piaciuto quando sono andata a risciacquarla anche perché si risciacqua in un batter d'occhio e ultra desida risciacquare mi piace perché l'effetto è bello rimpolpante sento la pelle bella stesa sento la pelle bella rilassata bella idratata fresca insomma mi ha davvero dato tante agevolazioni in solo davvero 20 minuti è stata una grande novità anche provarla perché essendo in stick non avendo mai fatto una maschera in stick è stato molto easy divertente anche ovviamente da provare si risciacqua senza assolutamente difficoltà si stende senza difficoltà insomma top thank you mi è made up anyway come prossimo step andiamo di tonico il tonico ovviamente che ho acquistato è il matcha toner strato di riso e strato di rosmarino e ovviamente come tutti gli altri prodotti della linea milk make up sono sempre non testati sugli animali non parabeni e vegan e anche ovviamente questo tonico è in stick quindi tipo sarà tipo un po' una figata provarlo guys perché cioè non ho mai provato davvero un tonico in stick tipo li ho provati di tutti i colori ma mi mancava in stick e wow a parte che si sta andando subito a stendere cioè è ultra morbido quando lo si stende la sensazione mi piace tantissimo perché è fresca ma poi è sempre la parte ovviamente superiore del prodotto è umida quindi tipo una cosa che proprio io amo di questi prodotti è che la parte proprio superiore sia ultra comfort è incredibile ok ancora non serve neanche secondo me stenderlo ma io lo stendo per un fatto ovviamente di andare ad amalgamare bene tutto il tonico su tutto il viso però mi piace è fresco non è assolutamente ecco guys non è sticky non è appiccicoso è morbido è fresco è è ultra malneabile anche perché comunque è stato ultra facile stenderlo e anche fatto che comunque la parte superiore sia umida l'ho adorato si è già asciutto si è già assorbito anche perché comunque vabbè alla fine un tonico però è stato strano nel senso non posso e non riesco a dare una valutazione anche perché è la primissima volta che io provo un tonico in stick e secondo me è stato proprio strano non sentire il viso bello bagnato di tonico ed è una cosa che proprio dei passaggi mi piace perché proprio mi dà la sensazione di fresco assoluto soprattutto dopo una maschera la sensazione di freschezza ovviamente non me l'ha potuta dare anche perché essendo in stick sì è stato morbido ed è stato ultra veloce e easy ovviamente da usare però quella nota di freschezza in più mi è mancata però non mi ci sono trovato male alla fine ci ho davvero messo due secondi passato amalgamato asciugato in tempo zero e secondo me questo tonico va bene davvero chi è di velocità assoluta soprattutto la mattina perché deve andare a lavorare tipo passa di tonico tipo dopo il cleanser siero contorno occhi crema come prossimo passaggio finalmente il siero sapete che io amo i sieri cioè tipo per me il siero è davvero il prodotto che più amo di tutta la skin care routine e questo è il watermelon brightening serum contiene all'interno fragola mele watermelon che è l'anguria e altri frutti ma ovviamente avrete sempre la scheda qui vicino a me con tutte le info e anche questo è un'oltre novità perché io amatevi i sieri però non ho mai assolutamente provato un siero in stick quindi sarà tipo curioso da provare e tipo top c'è l'odore e quest'anno è decifrare gli odori perché sono concentrati in stick quindi non si sente proprio l'odore immediato come tu lo può dare un siero più liquido o altro ma è molto più difficile percepire l'odore in sé e non noto ovviamente nessun odore momentaneamente ma andiamo a stickarci la faccia ovviamente con il nostro siero ok 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 insieme fresco a primo impatto mi sta dando davvero note fresche appena proprio sono andato ad applicarlo ok l'ho trovato ultra fresco proprio alla prima applicazione ora vado a stenderlo ma mi piace non mi è dispiaciuto e la cosa vera di questi prodotti è che comunque vanno ad assorbirsi facilmente ma una cosa che sto notando è che mi stanno andando a ingrassare molto più facilmente la pelle perché essendo in stick usando solo prodotti in stick secondo me tendono a ingrassare molto di più tutta la skin care routine infatti io adesso ovviamente li sto provando tutti insieme e secondo me è heavy tipo come cosa come usare una skin care routine completa di milk è davvero heavy però secondo me in separata sede sono molti più maniabili come prodotti però mettersi su un tonico in stick subito dopo mettersi su un un siero in stick diventa abbastanza pesante infatti io la sento è assolutamente morbida cioè non è sticky è idratata però la sento bella grassa la sento heavy un pochino però ovviamente perché è tutto concentrato ovviamente il prodotto è tutto in stick quindi uno stick sopra l'altro ovviamente va a renderti comunque anche la skin più heavy però non mi è dispiaciuto nel senso il siero l'ho trovato ultra ultra fresco morbido ovviamente sempre la parte superiore è sempre umida quindi faccio ovviamente ad andare a stendersi e ovviamente si è già anche assorbito quindi è la cosa bella anche di questi prodotti che comunque si assorbono ultra facilmente come prossimo step vado a pensare alla mia zona del contorno occhi con il cooling watcher che è un prodotto depuff che è apposta per la zona del contorno occhi quindi va a ridurre va a sgonfiare ovviamente borse o occhiaie per chi ne ha per chi non ne ha ma comunque va ad aiutare comunque a depuffare a sgonfiare ovviamente la zona del contorno degli occhi e dovrebbe essere ultra fresco all'interno troviamo acqua di mare e aloe vera quindi questo è un occhio molto curioso e il fatto che sia ancora in stick mi diverte proprio nel senso mi diverte questa skin care routine perché è tutta in stick e mi piace sì l'odore è molto più acqua di mare cioè qua si percepisce che la nota è un po' salata boh l'ho detta però si si percepisce e mi piace il fatto che comunque sia secondo me esatto molto easy guys ma davvero easy cioè da applicare è ultra easy ok top però questo prodotto io non vado assolutamente a stenderlo ma lo lascio asciugare così al naturale anche perché lo sono andato a passare tanto bene facendo anche dei movimenti circolatori intorno la zona del contorno degli occhi e lo voglio proprio lasciare asciugare per naturale c'è anche ovviamente tutta la linea le travel size secondo me di questo prodotto qua la travel size è più comoda anche perché è più piccolina e più manneabile ma mi piace anche nel senso non è freschissima come avevo letto ma però la sento idratata nel senso la zona del contorno degli occhi la sento protetta mi piace anche la sensazione proprio che io sto avendo anche perché la sento anche morbida quindi in senso mi ha sorpreso tanto e sicuramente anche questo prodotto lo riutilizzerò anche perché è ultra easy tipo fast to apply e why not quindi in senso sicuramente lo riutilizzerò e per tutti ovviamente gli aggiornamenti Instagram se non siete ancora iscritti perché tra stories e foto è molto più facile anche la comunicazione giornaliera da avere ovviamente con tutte con tutte le review ovviamente successive di tutti i prodotti e come ultimissimo prodotto vado ad applicare il mio eye treating oil di milk make up è un idratante in olio che all'interno c'è apricot quindi albicocca avocado e altri frutti che ovviamente vi lascerò qui vicino a me nella casellina con tutte le informazioni del prodotto in sé e ok mi piace il fatto che è un prodotto che è ultra trasparente quindi si vede all'interno che c'è tutta questa base un po' strana un po' top ma hopperai ok siamo andati a togliere sempre il nostro salvezzo e andiamo a passarlo allora si sente che è ultra olioso è molto più morbido degli altri prodotti perché ti sento più olioso è molto più scivoloso ok 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 l'odore mi piace perché ha odore di frutta e mi piace nel senso l'odore è molto è molto fruttato quello sì quindi l'odore mi piace e a parte essere diventato una patatina fritta vado a stendere ed è molto easy da stendere guys anche perché proprio la consistenza è oliosissima ma come prodotto non andrei a raccomandarlo tutti lo raccomanderei su una pelle davvero completamente secca su una pelle come la mia è già fin troppo almeno perché io poi le consistenze in olio non le amo da impazzire ma già su una pelle come la mia è davvero odiosa davvero grassa la consistenza ma comunque si è andato a stendere senza nessun problema comunque si sta andando anche ad assorbire piano piano ma su una pelle completamente secca una consistenza così oliosa può aiutare ad idratare meglio facendo proprio le ultime valutazioni proprio finali di tutti i prodotti anche perché la siccherotina è terminata qui mi è piaciuto tanto il cleanser l'ho trovato ultra comodo e il fatto anche di andare a amalgamarlo poi con l'acqua ha fatto fuoriscire proprio questi microgranuli sfoglianti che sono veramente andati a pulire molto bene la pelle quindi proprio il cleanser sarà uno di quei prodotti che riutilizzerò sicuramente mi è piaciuta tantissimo la maschera anche perché la maschera l'ho trovata ultra idratante ultra fresca e rimpolpante nello stesso momento ed è andato davvero a calmare bene la zona e idratarla quindi anche la maschera sarà sicuramente uno dei prodotti che riutilizzerò sicuramente il tonico non lo riutilizzerò ai guys è un tonico in stick non mi ha fatto impazzire almeno su di me non mi ha dato freschezza e pulizia ovviamente dopo una maschera come io sono abituato ad avere ed è stato davvero un tonico molto difficile da utilizzare ma ovviamente questa è sulla mia esperienza riutilizzerei ma non ovviamente tutto insieme il siero perché non mi ha dispiaciuto nel senso mi è piaciuto come si è andato ad applicare mi è piaciuto come si è assorbito mi è piaciuto anche la profumazione doveva essere un effetto brightening ma secondo me utilizzare davvero tutta la linea milk makeup in stick insieme è stata abbastanza pesante come come routine come skin care routine anche perché comunque è davvero tutta concentrata ma ovviamente il siero lo riutilizzerei volentieri riutilizzerei volentieri la contorno occhi perché mi è piaciuta mi ha fatto un effetto te puff mi ha fatto un effetto idratante proprio quindi not bad e con l'ultimo prodotto che è il gelating oil non lo riutilizzerei affatto perché mi ha davvero trasformato in una patatina fritta ok easy to to apply nel senso è stato comunque anche assorbimento not bad però non mi ha fatto impazzire nel senso perché risco una consistenza un po' più cremosa un po' emulsion però ovviamente questo è tutto a base alla mia esperienza anche perché comunque sette prodotti in stick hanno davvero appesantito anche idratato pulito nello stesso tempo hanno appesantito davvero la mia skin ma io spero che comunque questo video vi sia piaciuto thumbs up ovviamente se il video vi è piaciuto vi ricordo ancora la barra qui sotto per andare ovviamente a iscrivervi al mio canale e fatemi sapere voi ovviamente di che cosa ne pensate fatemi sapere voi il vostro passaggio o che prodotti ovviamente make up in stick utilizzerete e thank you so much for watching thank you so much for everything again guys ovviamente il vostro supporto è grandissimo io vi amo ci vediamo al prossimo video perché io il prossimo video ovviamente non sarò non sarò a Londra non sarò neanche in Italia ma sarò in another part of the world no mi porterò con me e anche perché nel prossimo video cambierà tutto cambierà sigla cambieranno effetti speciali quindi non vi dico niente anche perché sto lavorando davvero tanto con ovviamente il mio cameraman dietro le quinte con il ragazzo che ovviamente mi supporta e mi sostiene every day con l'editing e tutto il resto io spero che il video vi sia piaciuto un bacione guys ci vediamo al prossimo al prossimo video bye bye